Trovata pagina 478. Come il borgante di Pulci, l'Orlando innamorato di Boiardo è un poema cavalleresco, attinge alla tradizione dei cantari cavallereschi in cui si era attuata appunto una fusione dei materiali provenienti dal ciclo caurolinge, quelli del ciclo arturiano. A differenza di Pulci però Boiardo scrive ancora un poema serio, ispirato ai valori dell'eroismo e nella corte di Ferrara appunto dominata da una nobiltà feudale legata ancora all'attività militare, una materia cavalleresca esercitava ancora una profondissima, profondissima suggestione. E Boiardo dà voce a tutta questa mentalità, quindi si muove su quel repertorio di cavalieri e dame che erano propri della tradizione cavalleresca. La trama è piuttosto intricata ed è molto molto difficile da riassumere, come dire, se ve ne chiederò conto. Il motore principale delle vicende è Angelica, che è un personaggio inventato da Boiardo, di cui dovete in qualche modo tenere a mente, perché lo ritroveremo poi anche nell'Ariosto, che è una principessa bellissima che viene dal Catai, la Cina, quindi una principessa esotica, che giunge alla corte di Carlo Magno e getta lo scompiglio tra i cavalieri che, insomma, cominciano a rivaleggiare tra di loro per farla propria, per farla innamorare. Il più preso nei lacci dell'amore è Orlando, che, insomma, era in realtà portato nella tradizione precedente carolingia come un cavaliere molto molto fedele alla sposa, ero e casto, fedele all'imperatore, difensore, fedele nel senso proprio di difensore della fede cristiana. E qui la novità che dà il titolo al poema. No, l'Orlando non è più l'Orlando a Roncesvalle, non è più l'Orlando difensore della fede, è un Orlando innamorato. E ne dà, in qualche modo, ragione in questo, un proemio. Proemio che vedete qui, che trovate comunque sul vostro libro, che inizia con quest'ottava. Signori e cavalieri che ve adunati, però dir cose dilettose nove, state attenti e quieti ed ascoltati la bella storia che il mio canto move. E vedrete i gesti misurati, l'alta fatica, le mie altrove, che fece il Franco Orlando per amore nel tempo del re Carlo imperatore. Quindi siamo ancora nell'ottava rima e dice, signori cavalieri che ve adunati, che vi riunite per udire cose piacevoli e nuove. Quindi c'è la materia nuova e la materia, come dire, per compiacere questa corte. State attenti e quieti ed ascoltate la bella storia che il mio canto muove. State attenti e silenziosi e ascoltate la bella storia che si muove dal mio canto, che origina da questa mio, che dà origine a questo mio canto, che muove il mio canto. E vedrete i gesti smisurati, cioè le imprese iperboliche senza misura, l'alta fatica, la grandissima fatica e le mirabili prove, le ammirevoli prove che fece il Franco Orlando per amore nel tempo del re Carlo imperatore. Quindi stavolta le mirabili prove, il Franco Orlando le fa per amore quando, ovviamente, al tempo di re Carlo, Carlo re dei Franchi, ma anche imperatore del sacro romano impero. E la seconda ottava, invece, dice Non vi par già, signor meraviglioso, dir cantarvi Orlando innamorato, che qualunque nel mondo è più orgoglioso, ed ha vinto amor vinto al tutto subiugato, né forte braccio, né ardire animoso, né scudo maglia, né brando affilato, né altra possanza, pur far mai difesa, che al fine non sia d'amore battuta e presa. E quindi, già, non vi sembri troppo strano, oh signore, è questa, come dire, è la dedica alla corte di Ferrara e al suo signore. Non vi sembri troppo uno strano udire, cantare di Orlando innamorato. Orlando era un'altra cosa, era un, appunto, un paladino modello. Dice perché qualunque nel mondo è più orgoglioso, perché chiunque nel mondo possa essere il più orgoglioso, il più fiero, è d'amore vinto. Se d'amore è vinto, è del totto subiugato, è messo sotto gioco, né forte braccio, né ardire animoso, né scudo o maglia, né brando affilato, né altra possanza, pur far mai difesa, che al fine non sia d'amore battuta e presa. E nessun forte braccio, né un ardire, né un coraggio animoso, né uno scudo, né una maglia, né una spada affilata, brando come spada, né con nessun'altra potenza, può far mai difesa. Si può mai difendere che al fine non sia d'amore battuta e presa, che non sia presa da amore, vedete questa personificazione, l'amore con la A maiuscola, che non sia in qualche modo battuta e presa. Questa seconda ottava giruota tutto intorno al concetto di amore personificato e questo non fa che rimandare al concetto di amore tutto radicato profondamente nello stil nuovo. Se andiamo a vedere, come dice Dante, ricordate che al mor gentil rempaira sempre amore, quindi al cuore gentile, al cuore nobile, e non possiamo dubitare che di Orlando abbia un cuore nobile, ritorna sempre il concetto di amore, dobbiamo andare anche a vedere come, per esempio, Dante trattava la maniera d'amore. Non siamo riusciti a farlo perché, insomma, abbiamo avuto qualche problema logistico, l'avremmo letto ed era. Amor che al cor gentil ratto s'apprende, guinizelli, no? Prese costui della bella persona che mi fu tolta e il modo ancora m'offende. Qui sta parlando Francesca, dell'episodio di Paolo Francesca, come dire, uccisa dal marito perché trovate un amore all'ulterino con il cognato Paolo. E' il modo ancora m'offende. Amor che a nulla amato amar perdona. Amore che a nessuno che sia amato tollera di non riamare. E questa è la forza che prende Orlando. Mi prese costui piacersi forte che, come vedi, ancora non m'abbandona. E' un legame talmente forte che è anche il più forte dei paladini. Non può in nessun modo sottrarsi. E quindi anche chi è nel mondo più orgoglioso, più pieno di orgoglio, più pieno di coraggio, più ardimentoso, se d'amore è vinto, è tutto soggiocato. Completamente messo sotto un gioco, sotto gioco d'amore. Come i buoi stanno attaccati all'arato. E non si può liberare, non si può liberare, perché non può far difesa nessuna potenza se d'amore è abbattuta e presa. Ci dicono dove trae la novella. E' un'invenzione perché dice questa novella è nota a poca gente perché Turpino istesso la nascose, credendo a quel conte valente essere le sue scritture dispettose, poiché contra d'amor fur fu perdente colui che vinse tutte altre cose. Dico di Orlando il cavaliero adatto, non più parole, ormai veniamo al fatto. E qui che cosa dice? Dice sostanzialmente, questa storia è nota a poca gente, la dico solo a voi, è a voi che mi leggete. Perché Turpino era l'arcivescovo al seguito delle truppe di Orlando, che tradizionalmente, per invenzione probabilmente, questo non lo sappiamo, aveva raccolto le storie dei cavalieri. Perché Turpino, che aveva scritto le storie dei cavalieri, la escluse, la nascose dai suoi scritti ufficiali. E' una cosa che tenne da parte, credendo forse che a quel conte valente, pensando che forse le sue scritture fossero dispettose, facessero un dispetto a quel conte così valoroso, poiché contro ad amore fu così perdente. Di nuovo la personificazione è d'amore che abbatte e lascia perdente, poiché contro l'amore lui fu talmente perdente. Colui che vinse tutte le altre cose, colui che ha battuto i saraceni, colui che ha difeso l'impero, colui che difende la fede, perde contro amore. E sto parlando, dico di Orlando, il cavaliero adatto. Non più parole ormai, veniamo affatto. Quindi, e sto parlando di Orlando, il cavariere adatto a cosa? Adatto alle altre cose, adatto a vincere, adatto alle virtù. Dice, non più parole ormai, vi ho già spiegato tutto, veniamo al fatto. Quello che dobbiamo notare è come oltre al nuovo Orlando, quindi l'Orlando innamorato, e al potere di amore personificato che abbatte anche il cavaliere, abbiamo anche un nuovo pubblico. Se i cantarini, i cantari, erano popolari, come dire, il pubblico non è più la buona gente, la brava gente dei mercati, i mercati, qua abbiamo un altro pubblico. Abbiamo signori e cavalieri. E questo ce lo dice in un'altra ottava del canto tredicesimo del libro secondo, la seconda ottava, dice A voi piace udire l'alta prodezza, dai cavalieri antichi ed onorati, e il piacer vostro viene da gentilezza, però che a qual valore ve assomigliate? A voi piace udire l'alta prodezza, l'esser prode dei cavalieri antichi e degni di onore, ma il vostro piacere viene dalla gentilezza, gentilezza come nobilità d'animo. Perché? Perché voi siete persone, quelli della corte, che assomigliate a quel valore, vi rapportate a quel valore, potete essere accostati a quel valore. Perché chi quella virtù non ha, quella non prezza. Chi non ha una virtù non gli riesce a dare un prezzo, non gli riesce a dare un pregio, non gli riesce a dare un valore. Ma voi che qua d'intorno mi ascoltate, ma voi che mi ascoltate qui intorno, siete gloria di virtù e onore. Portate in gloria virtù e onore. Per questo vi piace udire questa bella storia di un cuore gentile rapito d'amore, che fa meravigliose cose e ardimentose prove e l'alta fatica. Perché voi siete cuori gentili a cui si può raccontare, potete dare un prezzo, potete dare un valore a una storia del genere. Quindi da qui si passa dal cantar popolare, che era per dilettare la brava gente del popolo, i mercati, a dover dilettare una corte. E quindi dobbiamo parlare di un amore che rende valorosi anche il più apprezzato e coraggioso e pio dei guerrieri, che è Orlando. Orlando che è innamorato, vedremo addirittura in Ariosto, diventerà furioso, nel senso che impazzirà proprio totalmente per amore in quello che sarà il proseguimento di questa storia in un altro autore che vedremo prossimamente.